Il piccolo tempio in onore della Santa Maria Maddalena, costruito ipoteticamente intorno al 1400, sorge alla periferia di Castiglione, in un'ampia zona denominata Trice, sull'incrocio viario che collegava Castiglione d'Otranto a Depressa, piccola frazione di Tricase, e a Montesano. L'interno è ad Aula Unica, dove sono presenti un piccolo altarino contrapposto all'altrettanto minuta porta d'ingresso. Due rappresentazioni pittoliche ritraggono la Santa Maria Maddalena in procinto di approdare su una spiaggia, molto probabilmente Marie de la Mer, allo scopo di evangelizzare il mondo. Un tempo nei pressi della cappella si svolgeva la Fiera degli Animali, molto seguita e conosciuta dalle popolazioni locali. Essa fu istituita da Carlo di Borbone il 22 luglio del 1752, come evidenziato da un epigrafe sopra l'architrave della porta d'ingresso della Chiesa.